miglior centrale della manifestazione miglior schiacciatore e MVP della manifestazione siete bicampioni del mondo Sebastien Zolè e Ole Plotnischi complimenti Seba 12 set vinti zero persi un grande mondiale innanzitutto auguri alla mamma di Ole con tanti auguri bravo bravo a lei sì sì è una siamo contenti perché insomma siamo venuti qua con l'obiettivo chiaro e raggiungerlo tanta roba e poi è una manifestazione insomma penso che la società ci tiene tutti quanti ci tenevamo ci siamo rifatti dall'anno scorso e niente siamo contenti abbiamo fatto una una bella pallavolo penso Ole grandi partite le due grandi partite di tutta la squadra anche stasera subito un grande approccio poi siamo andati nell'unico momento di difficoltà all'inizio del secondo set le due battute ci hanno rimesso subito in pista prima di tutto ti dico la mia lingua eh mamma si abbiamo giocato bene abbiamo trovato il ritmo tutti quanti quindi abbiamo stato un po' in difficoltà in secondo set ma ancora abbiamo tenuto insieme gli uniti fino alla fine quindi boh abbiamo portato questo risultato buono solo una curiosità e poi vi lascio i festeggiamenti eh ho le blottinisti che sebastian sole sono in camera insieme stasera a dormire con la coppa certo certo abbiamo abbiamo presso di no una letto matrimoniale dopo quando abbiamo visto la nostra camera 11 di sette abbiamo detto dai ma è una fatta sì è già dobbiamo solo un po' spingere quattro giorni ma vabbè grazie ragazzi grazie 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 grazie